Sono le 18.30 e noi, dedicati a Rugetti, abbiamo parcheggiato, ma siamo sopra, abbiamo parcheggiato dagli handicappati qui, ma poi dove parcheggiano di solito non le persone disabili, chiedo scusa per il termine, ma i parenti dei giocatori, a chi mi dice che non rispetto le regole. Laggiù, fermo nei lavori. Buona serata, più tardi.